bene a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo blog siamo nel blog recap del mese questo format questa rubrica che abbiamo grado non mi ricordo quando sinceramente ma che faccio ogni mese e l'abbiamo iniziato all'otto l'otto di qualche mese fa e voglio portarla sempre l'otto infatti come ho già detto negli scorsi video di recap del mese infatti oggi è per voi oggi per me ieri e anzi per me domani per voi oggi vabbè fate caso è l'otto quindi ragazzi siamo qui in questo blog recap del mese in cui parleremo di ciò che abbiamo fatto in questo mese quindi direi di cominciare a parlare che la cosa che è cambiata in questo mese è stato il fatto che il computer si è sfondato sul senso non mi registra più e quindi ci sono stati più blog che gameplay purtroppo aggiungerei ma c'è stato anche un lato positivo che con questi blog c'è stato un po più di rapporto tra tra me e voi iscritti voi amici si può dire la mia tra virgolette seconda famiglia ragazzi perché voi siete questo alla fine mi rapporto a voi così almeno quello che penso io e quindi abbiamo fatto più blog ho chiesto delle domande per fare dei fac che ne ho fatti ben cinque e basta più o meno questo poi ho fatto il blog della mia festa di hallo quindi che avevo chiesto se la volete volevate o no devo fare il blog in cui vi mostro la mia lista che mi avete detto ok farla e e proprio in questo mese prima che mi sono rompeva il computer avevo fatto anche caped stick fight era mandato davanti con con la serie di minecraft ma purtroppo niente ma in questo mese abbiamo raggiunto la soglia dei 100 iscritti ragazzi questo non è da meno e vi ringrazio ancora ringrazio veramente tanto e più che altro cioè no più che altro non in questo mese ma nello scorso ma vi rischio vi ringrazio ancora perché in questo mese siamo arrivati alla soglia di abbiamo siamo arrivati a 116 iscritti vi ringrazio tanto e purtroppo un ragazzo o una ragazza si è disiscritta e mi dispiace di questo come dico per tutti gli altri che in passato si erano disiscritti se ti va se vedi questo video scrivi il commento dimmi il motivo perché te sei disiscritta mi dispiace giusto per quello potrei rimediare giusto per migliorare in qualcosa comunque se vuoi riscrivi di quello è un problema e che dire per quelli nuovi ragazzi sono un come avete visto dei video sono un ragazzo semplice nei gameplay certe volte sclero male anche però sono molto aperto nel senso faccio gameplay vlog adesso questo video più vlog più che altro porto minecraft ma con l'arrivo che non se non sapete con l'arrivo del nuovo computer che spero presto anzi ci sono stati dei problemi ragazzi volevo parlare anche di questo ci sono stati dei problemi che hanno rallentato l'arrivo del computer io infatti questo sto sbloccando ragazzi non ce la faccio più e niente con l'arrivo comunque stavo dicendo con l'arrivo in futuro del nuovo computer portavo e molti molti matico molti altri gameplay vi posso assicurare per questo motivo c'è stato questo ritardo purtroppo e cercherò di trovare una soluzione per continuare a registrare con questo video volete trovare una soluzione per tra virgolette sistemarlo per continuare perché giustamente non posso portare solo vlog per voi perché se non è un uno stallo da me come ho detto più più e più volte gli stalli non mi piacciono quindi direi e anche un'altra informazione non da meno molto molto importante ragazzi sono entrato questa qua era una delle cose che non mi ricordo in che vlog avevo detto che volevo che andava a buon fine e ragazzi è accaduta questa cosa sono felicissimo e lo dico ora lo dirò ancora che sono felice felicissimo di questa cosa che sono entrato nella crew di randomical si chiama che l'ha fondata itzerine che ho nominato più e più volte in questa in cui in questo canale in cui questa questa crew è formata da me itzerine che è la fondatrice e kemer 904 alan archeo che sono due ragazzi che purtroppo ora il loro canale sta un attimo starlo perché hanno avuto purtroppo delle brutte feed nel senso non i registravano più visualizzazioni di quanto facevano prima facevano 300 e 200 visualizzazioni o anche di più e sono arrivati a farne neanche 20 mi dispiace tanto per loro infatti hanno deciso di purtroppo di chiudere quel canale e ma hanno detto in futuro vedranno di aversene uno per conto loro io gli do in bocca al lupo ragazzi tanto ci parlo su su telegram che nel gruppo spero che riescano ad riaprire e da ricominciare con molta molta più carica e non meno e non ultimo è anche it's alex che si è unito anche lui si può dire nello stesso momento in cui mi sono unito io e basta e dicevo di telegram parlo telegram infatti sto cercando di creare un gruppo per telegram per il canale datemi tempo e avrete anche il canale telegram dove potremo parlare dove vi potrò informare di dei video oltre a facebook e oltre a instagram anzi ragazzi se non siete iscritti sia al canale ma passate ad a formarmi ad seguirmi più che altro ho detto un po la cazzo dei cani come si dice e andatemi a seguire su instagram facebook twitter e poi su telegram quando la pirò e su tutte le altre cose che ho sul canale mi raccomando e non dimenticate di spoggiare a questo video più che altro fate iscrivere chiunque a questo canale fatelo conoscere condividete e poi che altro vi devo dire alla fine sono stati quelli le cose principali si può dire principali vi posso dire che off camera sto continuando a fare delle piccole cose delle piccole migliorie al mondo di minecraft che purtroppo non riesco a farvi vedere e ma non sto esagerando sto facendo giusto alle obbligazioni di certe cose comunque mi sto preparando per iniziare sto affermando cioè non è che l'ho lasciato fermo li sto preparando cose per le nuove costruzioni che faremo in futuro quando lo cercherò di quando potrò più che altro potrò ricominciare a registrare gameplay e poi un'altra cosa e penso non non so se nel prossimo o in start a settimana vedrete un video particolare e cui mi farà molto piacere sempre blog e spero di registrarlo in questo limite perché sono pure cinque mesi che aspetto e vorrei registrarlo questo video e e poi si dovrò portare quella il video della playlist voglio portare il video dello svapo che mi avete richiesto e poi e non so e poi ditemi nei commenti se volete che ne so che vi parlo del ballo volete sapere la mia storia perché altro di come è andata questa passione da quando ho cominciato oppure semplicemente perché io avrei parlato da parlare anche sul fattore palestra che mi sto approcciando se volete un blog anche su quello fatemi sapere e fatemi anche altre domande se ne avete così non le metto da parte per fare un altro fac così ragazzi vi rispondo e basta ragazzi penso che questo è stato il mese complessivo di questo canale sono veramente contentissimo che il canale sta crescendo e vi posso dire anche a quante visualizzazioni siamo arrivati ora ve lo dico subito siamo arrivati a 2238 visualizzazioni sono contentissimo ragazzi contentissimo poi iscritti di commenti ragazzi finì la community è cresciuta veramente meramente tanto in questo ultimo mese ringrazio ancora per tutte le domande chi me l'ha fatte per i fa che ringrazio veramente tanto spritz ragazzi è stato un grande a farmi tutte quelle domande e serine e mai dalle stellors ventroni e tanti tanti altri ragazzi vi ringrazio che ringrazio veramente ancora tanto quindi ragazzi direi che per questo video recap del mese di questa rubrica che abbiamo creato e direi che può essere tutto non dimenticatevi se non siete iscritti di scrivere di mettere like di mettere like di lasciare un commento condividere e seguirmi su tutti i social che ho e quindi ragazzi ci vediamo nel prossimo video e vi darò aggiornati e ci vediamo nel prossimo video che vedrò su cosa fare penso sullo svapo oppure vedremo quindi ragazzi ci vediamo in un prossimo video bella